Ciao ragazzi e benvenuti con un nuovo video. Sono Gravuscon7 e benvenuti su Degli Ocean Mining. Ho messo tutti su questo gioco e ho pensato a poter anche questo gioco. Questa è la demo. Prima di iniziare facciamo un bel like per il prossimo video e diamo 10 di like. E ragazzi, si deve iniziare. Mamma mia. Ma ciao! Ma che bello vederti. Ma tutto spegniamo un ventilatore perché spero, spero c'è energia. Ma dai? Ok. Ok. Ok, qua ci inseriamo. Ok. Ok, qua si è mosso. Ok, no. Meno male. Ok. Ok, ok. So, che fermo qua. Oh, non ho scelto. Ok. Ok. Qua non c'è? Ok. Ok. oh 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 ok 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 oh che mi fai il jumper vino al suo che mi che mi cazzo veramente no segnalmente oh oh no ok ok oh non mi attaccherai mai eh capito eh scusa l'ottame vediamo se qua dietro o no non c'è ok ho una buca sensazione che è qua dietro ah ok non c'è oh oh ciao ti ha fulminato e è passato un temporale qua vediamo se è qua dietro di nuovo ok 3 di mattina ragazzi ce la possiamo fare dove stiamo lo scavolo è ok nel 4 di mattina dove stiamo lo è quel tirla c'è mai un jumper ok qua non c'è oh oh è facile questo gioco è facile ragazzi è facile quindi perchè 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 allora esiste nel suo video ci facciamo questo qua eh no evidentemente non so perchè evidentemente oh adesso fai il mattino ragazzi adesso fai il mattino che la possiamo fare ragazzi qua non si fa vivo qua non c'è non ci non spunta di nulla non so perchè ma ragazzi ce l'abbiamo fatta ma ragazzi ce l'abbiamo fatta ah oh si chi è siamo quasi fatto si 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 allora grazie quella demo ok ragazzi questo video si conclude qua ragazzi mi raccomando lasciate un bel like per il prossimo episodio quel gioco completo di gary of mind e su tutti gli amici social su instagram su facebook su gary of mind e su tiktok e ragazzi ci vediamo al prossimo episodio e su ming tu moi cay bi ciao ragazzi aiii